Ciao a tutti, io mi chiamo Najla, sono originaria dalla Libia, sono arrivata in Italia nel 2005. Il primo periodo qua in Italia è stato un po' difficile per me, ma dopo ho scoperto l'atletica leggera. Mia mamma già era solita mandarmi a fare le commissioni. Najla vai di là a prendermi il pane, Najla corri velocissima a prendere le uova. Per me erano come delle piccole garette. Andavo, correvo, perché mi faceva stare bene e volevo battere sempre il mio record. Dicevo mamma prendi il cronometro, contami il tempo. Ovviamente andavo sempre di corsa. Il mio primo approccio con la corsa fu grazie alla scuola, ma soprattutto grazie alla corsa campestre, dove vinse il mio primo titolo italiano nel 2006. La corsa mi rendeva veramente felice. Mi legai così tanto alla corsa anche per il fatto che potevo stare fuori casa, potevo viaggiare, potevo prendere un treno. Per me era bellissimo, quindi così mi avvicinai tantissimo alla corsa. E poi le ore di educazione fisica. Le ore di educazione fisica furono il mio primo mezzo di comunicazione con i miei compagni. Immaginatevi che discorsi. L'ora di educazione fisica era la mia ora preferita, perché era l'unico modo per comunicare. Quindi lo sport mi ha aiutato a iniziare a parlare l'italiano, perché quando sono arrivata qua non sapevo neanche una parola, tranne l'ora di educazione fisica, che mi rendeva felice, perché riuscivo a scambiarmi due sorrisi o due chiacchiere con i miei compagni. Dopo diversi problemi familiari, diciamo sono rinata, sono decisamente rinata. Letteralmente rinata. Il matrimonio imposto. L'allontanamento di casa. Il ritorno in Italia. Il coma. Sì, il coma. E poi la rinascita. E lì capì veramente il valore della vita. Dopo la mia rinascita, avevo un solo ed unico piuttivo. Correre e far correre gli altri. Perché questo mi ha fatto capire quanto è veramente importante la corsa. La corsa mi aveva veramente salvata. Sono questi gli eventi che mi hanno portata a diventare, oltre che una runner, una coach runner. Due anni fa ho dato vita a una crew che si chiama Flying Girls Academy. Sono delle ragazze diverse tra loro, ma accumulate da una sola cosa, che è la corsa. E ci troviamo quasi tutti i giorni a correre nelle strade di Milano. ciò che cerco di trasmettere attraverso la corsa. Non so come spiegarvelo. Cioè, tutte le persone sanno correre. Tutti sanno farlo. E immaginatevi quanto è difficile per me insegnare la corsa. Infatti non è quello che voglio fare. Il mio obiettivo non è quello di insegnare alle persone a correre, perché lo sanno fare tutti. Ma insegnare quello che si può superare attraverso la corsa. Quello che a me ha aiutato ad affrontare così grandi problemi attraverso la corsa. Come vi ho detto, grazie alla corsa io sono ordinata. Ciò che è capace la corsa, o l'azione semplicemente della corsa, è farci superare. Anche perché la corsa è un'azione che si ripete più, più volte. Ti obbliga a pensare. Ed è per questo che a volte le persone dicono No, non c'ho voglia. Eh, ma io dopo un po' mi annoio. No, perché tu non vuoi pensare. È per questo che non vuoi andare a correre. Invece la corsa ci obbliga a pensare. Ci obbliga ad affrontare i nostri problemi. È ciò che non vogliamo mai fare. Perché per me la corsa è una terapia. È qualcosa che ci fa star bene. Quindi perché non farla? A volte per me è più facile correre con i ragazzi del Playmore che con tutti voi. Pensa. Nel corso degli anni ho coltivato diverse amicizie. Una è quella di Matteo. Tra l'altro diverse amicizie che mi hanno insegnato davvero tanto. Apprezzare anche le piccole cose. Matteo è un ragazzo ex fragile. Matteo insieme a me cambia completamente. Matteo non ha orari, non ha cose. Lui vive, vive la giornata. È un ragazzo carico a mille. Lui si carica e va. Vivi tutta la giornata carichissimo. Non si ferma mai. Matteo aspetta, fermati. No, lui vive così. È una potenza. Con Matteo ho deciso di fare un viaggio. Abbiamo organizzato un viaggio per farlo stare bene. Per far divertire lui. Invece mi sbagliamo. Perché alla fine di quel viaggio sono tornata stando bene io. È Matteo che aveva aiutato me. E quindi da lì ho cambiato modo di vedere le cose. Che tante volte pensiamo noi di aiutare gli altri. Quando sono gli altri ad aiutare noi. Tante volte quando si parla della corsa, soprattutto le donne. Quando si parla di sport, le donne e soprattutto gli sport della corsa, la donna si sottovaluta. No, io non ce la faccio. No, ma è difficilissimo. Ma non ce la farò mai. Come spesso. Se tu dici, andiamo a fare la mezza maratona. Gli uomini, vabbè dai, due chiacchiere. Il massimo camminiamo, il massimo ci fermiamo. La donna parte già. Tanto io non ce la farò mai. Non ce la farò. Due settimane fa, feci fare a una ragazza un test di 30 minuti. È la stessa storia. Najla, ma non ce la farò mai, dai. Non riuscirò a farlo. Ma 30 minuti senza fermarci? Eh sì, 30 minuti senza fermarci. Dai che ce la puoi fare. E grazie al mio aiuto e al suo aiuto, alla sua forza di volontà, è riuscita a superare quel test. È riuscita a fare 30 minuti senza mai fermarsi. È riuscita ad andare oltre i propri limiti. Questo ci fa capire quanto a volte il primo passo ci fa andare oltre. Il primo passo ci sblocca. Perciò scioglietemi e andiamo. Scarpe, pantaloncini, una maglietta termica perché fa un po' freddo. E andiamo a correre. Vi aspetto a correre insieme a me. Quindi ci vediamo al Playmore.